Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Ho ascoltato le dichiarazioni di Lucia Morseglie, amministratore delegato di ArcelorMittal, alla Commissione Attività Produttive e Lavoro della Camera dei Deputati, in merito all'accordo tra Stato Invitalia ed ArcelorMittal. C'è da dire che sono rimasto letteralmente sbigottito dalla falsità di questa donna, dall'ipocrisia di questa donna, dalle favole che ha raccontato alla città di Taranto, una città che sta crepando di cancro. Lucia Morselli sta descrivendo una situazione paradisiaca, che paradisiaca non è. Sto realizzando questo servizio qui, proprio a San Vito, in una location fantastica, in una location di mare, che ha però alle mie spalle un mostro. Già si vede il mostro e si vedono in modo particolare le coperture dei parchi minerari, peraltro incomplete ancora. La Morselli ha raccontato tante di quelle favole, di quelle chiacchiere, che umiliano la memoria dei deceduti, dei morti, e umiliano la sofferenza di chi sta buttando sangue a causa di ArcelorMittal. Ma penso che le sue dichiarazioni meritino un approfondimento. Guardate cosa dice, perché ci vuole proprio, devo dire, quella della Morselli è una faccia di bronzo, una faccia tosta. Vedete un po', ascoltate un po'. Con l'ingresso dello Stato in ArcelorMittal, l'obiettivo è fare dell'acceieria di Taranto, che è già la più grande di Europa, una delle più belle del mondo. Questa è una stronzata, una puttanata mai vista, scusate la volgarità, ma penso che i tarantini abbiano le scatole piene, di sentir dire che l'acciaieria di Taranto diventerà, o è già, una delle più belle del mondo. Lo vada a spiegare, Morselli, lo vada a spiegare ai malati di cancro, ai familiari dei morti di cancro, si vergogni di dire queste cose, si vergogni e si deve vergognare lo Stato italiano di aver fatto un accordo avendo un amministratore delegato come Lucia Morselli nella nuova governance. Andiamo avanti. Leggo testualmente. E fare questo di un'acciaieria che parte con presupposti importanti è un obiettivo condiviso da Arcelor Mittal che non andrà via dall'Italia. Che disgrazia, cara Morselli, avere ancora Arcelor Mittal, avervi ancora tra le scatole. Produrrete altri morti, altri malati, come avete solitamente fatto. Ed ecco la puttanata, la stronzata delle stronzate. Con i nuovi investimenti a regime si va ad una riduzione di almeno il 50% sulle emissioni. Che favola! Che puttanata, amministratore delegato Morselli. Questo farà dell'acciaieria di Taranto la meno inquinante in Europa. Ma vi rendete conto che stronzate sta raccontando questa persona? Tarantini, quando cavolo vi sveglierete per non dire qualche altra parola? Andiamo avanti. Stiamo migliorando e riducendo tutti i parametri di potenziale inquinamento rispettando le leggi dello Stato. Ma cosa dici? Non avete fatto un cazzo finora, cara Morselli? Non avete fatto nulla finora? Come ve lo devo dire? In quale lingua i Tarantini ve lo devono dire? Non avete fatto niente né a livello ambientale né a livello di sicurezza perché lo stabilimento sta crollando a pezzi, sta collassando. E tu, cara Morselli, perché meriti il tu, neanche lei, hai il coraggio di dire che state facendo questi miracoli. andiamo ancora avanti. Rispettando poi la cosa assurda che dice, lo ripeto, stiamo riducendo tutti i parametri di potenziale inquinamento rispettando le leggi dello Stato. Ma se voi state violando sistematicamente le leggi dell'ordinamento nazionale in tutti i modi, anche nei confronti degli operai, basta che l'operaio dica una parola e l'operaio viene licenziato. Andiamo avanti. Il piano che è stato approvato la settimana scorsa con l'accordo in linea con quello di marzo è del 2017. Altra bella merda quel piano. Prevede 2,1 miliardi di investimenti da fare in cinque anni. Pum, che puttanata. E ci sono le spese dei grandi forni, gli interventi ambientali, gli investimenti nei forni elettrici e le manutenzioni. Di tutto di più, cara Morselli. Il target previsto per il prossimo anno è di 300 milioni. Partiamo quindi veloci e nel brevissimo termine. Ma se non avete fatto niente in due anni, ora volete velocizzare, è previsto che questo piano possa confermare nel 2025 con 8 milioni di tonnellate il pieno impiego di tutti i dipendenti di Arcelor Mittal Italia che sono 10.700. Quindi, ascoltate cari Tarantini, che si dovrebbe arrivare ad una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio, il che significa stuprare, uccidere ulteriormente la città perché non si arriverà mai a queste cifre. Ma se mai si dovesse arrivare, questa sarà l'ecatombe dei Tarantini, ci sarà la strage dei Tarantini, senza considerare poi che il mercato sta bocciando l'acciaio italiano. Quindi, Arcelor Mittal, se non sarà condannata dalla magistratura, Arcelor Mittal, l'ex silva, la struttura, in generale, la realtà siderurgica, sarà appunto il mercato a bocciarla perché l'acciaio non si vende. O meglio, se si producono 8 milioni di tonnellate, dove ce lo metteremo? Sul comodo di casa? E poi si parla di 10.700 dipendenti, senza considerare, non si parla però di quei poveri cristi dei lavoratori appunto ex ilva in AS, in amministrazione straordinaria. non sono previsti esuberi strutturali, ma che tutti i dipendenti entrino nella operatività ordinaria. Quindi, la Morselli dice, ci sarà una produzione, in buona sostanza ci si alterneranno, dice la Morselli, oltre la produzione classica appunto con il carbone, ci saranno i forni elettrici, questa nelle favole sempre che racconta, e in buona sostanza si dovrebbe arrivare con il nuovo accordo al 2025 con appena il 30% della realtà siderurgica decarbonizzata, solo il 30%. Per il resto ci sarà, come vedete, il rifacimento di AFO 5, il che significa che solo una parte, ammesso che ciò avvenga, una parte della produzione avverrà a carbone, per il resto ci sarà il solito sistema assassino, sistema di produzione assassino, con il carbone. E poi però, siccome si deve dare lo zuccherino, si parla di questa produzione ad idrogeno, altra fantasia, e infatti conclude la Morselli, tutti sappiamo che l'idrogeno è il futuro, il propellente finale di questo percorso e ci stiamo andando, stiamo lavorando. Allora, signori cari, al di là di tutte le favole che sono state dette dalla Morselli, un fatto è sicuro che ammesso, lo ripeto, che avvenga qualche miglioria, solo il 30% sarà decarbonizzato, per il resto, solita produzione a carbone, soliti morti e soliti ammalati di cancro. Questa è la realtà, una realtà assassina. E allora l'invito, lo dico per l'ennesima volta al sindaco Melucci, di fare le ordinanze di chiusura. Non basta quella semplice ordinanza che è sotto i riflettori, sotto il giudizio del Tar, occorre fare un'ordinanza per ogni sforamento, ogni sforamento che c'è, ad ogni sforamento che c'è, deve corrispondere un'ordinanza. E' un po' come quando se io lascio la macchina in doppia fila, automaticamente per ogni infrazione scatta una multa. Non è che mi hanno fatto una multa e quella multa vale per sempre per tutte le altre successive. E poi, caro Emiliano, invece di scodinzolare dietro Conte, perché sappiamo che tu vuoi fare la scalata ministeriale, di a Conte che ha preso per il culo i Tarantini, non fare l'offeso tanto per farlo, questa è Taranto, la bellezza di questo mare, delle sue attività produttive legate appunto al mare e questi mostri, questo cesso mortale assassino che si chiama siderurgico che è lì, guardate le ciminiere e quel mostro di copertura dei parchi minerali. Morselli, sei la rovina di Taranto, sei la rovina di tanti cittadini che si ammaleranno di cancro, di quelli che si sono ammalati e avrai sulla coscienza, anzi già ce li hai, tanti morti e tanti padri di famiglia che lavorano in quello stabilimento e che per causa tua sono costretti davvero a fare una fine indecorosa per il genere umano. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre. pre.